Non si può vivere così, siamo stanchi di essere considerati cittadini di serie B. Dilagano le proteste e le segnalazioni per la raffica di furti nelle abitazioni e per le aggressioni ai più anziani. Un fenomeno che nell'ultimo anno e mezzo ha subito un graduale aumento, si conta infatti in media un furto a settimana. È il senso di rabbia e impotenza che si respira, insieme alla mancanza di sicurezza e paura, tra i residenti della zona sud di Fano, quella di Ponte Sasso, ed in particolare dei cittadini della zona di Via dei Laghi. I furti nell'ultimo anno e mezzo in questa zona sono aumentati notevolmente, addirittura anche negli ultimi giorni. Sì, ormai sono diversi mesi che noi tutte le domeniche subiamo dei furti nell'abitazione private. Le dinamiche sono sempre le stesse, queste persone entrano dalle 16 alle 19 di pomeriggio, approfittano del buio, approfittano che magari la gente esce la domenica per fare un po' di spesa, quindi le case sono disabitate temporaneamente e abbiamo paura. Io ho paura di stare a casa con i miei bambini, ho paura di rientrare una domenica e di trovarmi qualcuno dentro casa. Ci sentiamo abbandonati dall'amministrazione comunale e quindi chiediamo al sindaco se è cosciente della situazione e se ha intenzione di fare qualcosa. Controlli ci sono? Controlli non ci sono. Noi ci siamo organizzati da soli anche, facendo delle ronde volontarie, però chiaramente abbiamo il lavoro da portare avanti, abbiamo una famiglia. Non abbiamo tempo sufficiente, non è neanche questo il nostro ruolo, non abbiamo l'attrezzatore. Furti, ma anche addirittura dei medicinali. Sì, io come cardiopatica ho avuto la sorpresa che dal mio cassetto mancavano le mie medicine. Oltre che ho subito tre furti, basta, sono sazia. Quanto tempo? Il primo l'ho subito due anni fa e tre settimane fa hanno fatto il mio appartamento sotto e quello di mia figlia di sopra. Sono arrabbiata, molto, molto, molto. Noi siamo, ci si è dimenticati di noi, noi non esistiamo. Non solo furti, ma anche aggressioni ad anziani. Esatto, io purtroppo il 21 di ottobre abbiamo avuto un'aggressione con furto, con rapina più che altro che furto. La mia madre, una signora dell'est, ha scavalcato praticamente il cancellino e praticamente l'ha strattonata per terra e gli ha rubato l'orologio d'oro, tutto d'oro, che aveva regalato mio padre tantissimi anni fa. Per fortuna non si è fatta niente, lo spavento è stato tantissimo. La persona in questione è riuscita da dove è rientrata e nel frattempo davanti alla statale c'era una macchina ferma con un'altra persona dentro. Che cosa chiedete ora all'amministrazione? Noi chiediamo al comune più tutela, più telecamere e altrimenti saremo costretti il prossimo anno, visto che ci sarà l'elezione del nuovo sindaco, di riportare su tutte le schede elettorali. Questo è quello che noi chiediamo a tutto il gruppo che abbiamo qui di Ponte Sasso. Disto e considerato che noi paghiamo tutti quanti le tasse, è giusto che siamo tutelati, è giusto che se c'è da fare qualche cosa si fa, non solo per Fano. Noi siamo sotto Fano, però non abbiamo niente che ha Fano. Grazie.